Eccoci qua, prosegue la mia striscia quotidiana del venerdì, tempo di baseball, tempo di diamante. Allora, ringraziando sempre FIPS.it per tutto quello che è la concessione della FIPS con tutte le sintesi e i recap dei vari campionati. Il pezzone con cui si inaugura la settimana è dedicata all'MLB, continua il dominio new yorkese con Yankees e Mets al comando delle rispettive division, la lotta Dodgers-Padres nel reparto ovest, i Twins provano a scappare mentre i Red Sox danno segnali di risveglio. L'uomo copertina, come da foto di FIPS.it, è Trevor Story. L'uomo copertina di questo fine settimana, il 29enne di Irving, Texas, è finalmente esploso e lo ha fatto proprio nel luogo in cui ha reso meno Fenwick Park. L'interbase del Red Sox ha concluso una settimana davvero pirotecnica che lo ha visto protagonista di ben 6 fuoricampo, 14 punti battuti a casa. Determinante nei successi contro gli Astros e nello sweep i due successi contro Seattle Mariners. Non vi sto a raccontare tutto l'articolone che, come ogni weekend, è firmato dall'amico Luca Giangrande. Vi ricordo solo che martedì 24 maggio avete visto New York Mets e San Francisco Giants. Mercoledì Detroit Tigers e Minnesota Twins. Questa notte, venerdì, a mezzanotte e mezzo, New York e Yankees, Tamba by Race, lo commenteranno il duo Nicolò Di Freri, Sky Sport Action, canale 206. Poi vado a darvi gli ultimi risultati del campionato americano più bello del mondo, ve li appuntate, si comincia da quello che era successo il 25, per cui ieri l'altro. Allora, Colorado Rookies e Pittsburgh Pirates in terreno di trasferta 2-1, Tampa by Race e Miami Merlins 4-0, i Chicago Cups sono andati a vincere a Cincinnati contro i Reds 11-4, Los Angeles Dodgers hanno vinto a Washington sui National 11-4 e hanno fatto poi Los Angeles Dodgers-Washington National 9-4, i New York Yankees hanno sofferto ma hanno battuto di un punto Baltimore Orioles 7-6, Atlanta Braves di un punto ha avuto la meglio sui Philadelphia Phillies 6-5, Minnesota Twins in una partita corta 2-0 contro i Detroit Tigers, i Toronto Blue Jays sono andati a vincere a St. Louis sui Cardinals nettamente 8-1, gli Astros di Houston sono decollati, se mi si permette la battuta, battendo Cleveland Guardians 7-3, i Boston Red Sox hanno raddoppiato i Chicago White Sox 16-3 in trasferta, i Los Angeles Angels hanno battuto i Texas Rangers di 2-5-3, gli Oakland Athletics sono andati a vincere a Seattle sul campo sul diamante dei Mariners 7-5, i Milwaukee Brewers hanno vinto 4-1 a San Diego sui Padres, poi gli Arizona Diamondbacks hanno vinto 8-6 rimandando battute i Kansas City City Royals, poi grande partita San Francisco Giants-New York Mets, una delle poche sconfitte dei Mets in una partita davvero pirotecnica, 13-12 la più bella di quest'anno, Pittsburgh Pirates hanno raddoppiato i Colorado Rookies 10-5, i Detroit Tigers hanno raddoppiato in trasferta sui Minnesota Twins vincendo 4-2, i Giants hanno battuto i Mets 9-3, i National per un sol punto hanno avuto la meglio sui Dogels 1-0, gli Oakland Athletics hanno raddoppiato di nuovo i Mariners 4-2, i Milwaukee Brewers hanno battuto in trasferta a San Diego Padres per 2-1. Questi sono gli ultimi raguagli che ci sono pervenuti sui nostri teleschermi, dico che mercoledì martedì pomeriggio c'è stata una gustosa amichevole e non per nulla abbiamo messo la maglia della Nazionale Italiana sul nostro tavolo, la Nazionale Italiana vince e convince contro San Marino, amichevole spettacolo, lo stadio Serra Valle di San Marino, una giornata designata all'insegna del baseball con tanti giochi per i più giovani e tanta bella musica, una giornata all'insegna del batti e corri, leggo ovviamente prendo appunto dal comunicato stampa di Fibse.it in compagnia della Nazionale Italiana Italiana Elite e dei campioni d'Italia del San Marino, un'autentica festa andata in scena martedì nel tardo pomeriggio allo stadio Serra Valle di San Marino, 4 a 1 il risultato finale per la Nazionale Azzurra in una partita giocata sui sette inning, ma che ha rappresentato una delle tante attrazioni di una giornata sportiva grazie al fitto programma allestito per l'occasione che ha richiamato a gran voce un buon numero di spettatori. E dunque, cosa dire, successo dell'Italia, è stata una bella partita, da segnalare le prestazioni nel box di Paolini 3 su 4, Mineo, Ferrini, Garbella entrambi terzetto 2 su 4 per gli azzurri e di Ustaritz per San Marino, un doppio con un punto battuto a casa. Poi c'è una notizia che arriva da Grosseto, maglietta e cappellino della Spirulina Becagli, Grosseto ci fa sapere che è Jonathan Carbo, nuovo lanciatore straniero del BBC, Grosseto-Spirulina Becagli, classe 1998, 1998 destro, il neo bianco-rosso arriva da un campionato professionistico cubano dove ha disputato 105 partite in 8 stagioni con la Isla dei Juventud, 24 vittorie e 32 sconfitte, dimostrando ottime qualità. Lo scorso anno è stato il partente della Nazionale Roja ai mondiali Under-23 in terra di Venezuela, sarebbe dotato di una palla veloce che viaggia intorno ai 91-92 miglia, Garbo promette di dare spettacolo agli sportivi grossetani che da questa sera, primo avversario del Godo, cominceranno a seguire le sfide della PUL. Scudetto le prime parole di Garbo, sono contento di aver scelto l'Italia e Grosseto, una città importante per il baseball, ha detto il pitcher Caraibico dopo il primo allenamento. Grosseto è andata a caccia di questo rinforzo dopo che c'era stato il dietrofonte delle nicaragüense Braulo Silva che era stato il primo lanciatore su cui il Grosseto aveva messo gli occhi. Per cui dice anche Filippo Ivelli che questo nome ci è stato garantito da un vecchio amico come Pedro Medina e dal nostro terza base Orge Barcelan che è stato suo compagno di squadra per mezza stagione due anni fa con gli industriales Carbo è arrivato in Maremma martedì, farà il suo debutto con la maglia del Grosseto questa sera ore 21 nel primo match con Hort Godo che apre la PUL. Scudetto sul pezzo impaginato testuale di Fidenzio Viola Supersport Live.com se volete andare a vedere ci sono tutte le statistiche di Carbo nei suoi anni cubani. Allora, sono nello scorso weekend iniziati i play-off, Parma Clima è andato a stampare la prima notizia degna di nota perché conduce 2-1 sui Titani, sul sud di San Marino in gara 3 della BUL Scudetto e i campioni d'Italia si rifanno accorciando 1-2 vincendo contro Parma Clima per 4-3. Andiamo ricordandomi che Parma Clima aveva prima trionfato 8-5 in gara 1, dopodiché aveva fatto doppietta allungando e ribattendo San Marino 2-1. Per cui play-off iniziati con questa grande sorpresa San Marino cade per la prima volta al Titano davanti ai suoi tifosi e dunque il campionato italiano sussulta. Andiamo a vedere anche, c'è stato un recupero in Serie A partita che non cambia sostanzialmente le cose, migliora la classifica dei neopromossi del BSC Grosseto Big Met che battono due volte l'Accademy Nettuno 5-2, 8-2, per cui migliora sensibilmente la situazione per quanto riguarda la classifica grossetana. Andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati dell'ultimo turno in Serie A Cagliari-Brescia 5-4. Nel girone A Parma Clima aveva terminato la stagione regolare 14-0-1000. Campidonico Torino 10-4, 7-14, aveva staccato Settimo Torinese che finisce a 9-5, 6-43. Recupero nel girone B, Metalco Dragons Castellana, Tecnovap Verona 5-3. Si era recuperata mercoledì 20. La classifica finale del girone B, Unipol 6-Bologna imbattuta 14-0-1000. Came Collecchio che va ai play-off Scudetto 11-3, 7-8-6. E poi dietro Rovigo e Ronchi dei Legionari 7-7 a 500. Nel girone C non c'erano recuperi in programma. San Marino 13-1-928, Godo secondo 11-3-786. Modena deve cedere lo scettro della classificazione mancata ai play-off. Chiude al terzo posto 10-4 a 7-14. Come detto, le due affermazioni nei recuperi di Big Mat e BSC Grosseto, Academy Netuno 5-2-8-2. La classifica di questo girone D che ha perso Paternò e Viterbo, per cui il girone D più corto, più veloce. Spironina Beccagli 8-2-800 vai play-off questa sera con Godo. Nettuno 1945 e Ozzen Macerata chiudevano al secondo posto 7-3-700, ma passa Nettuno per aver vinto i due scontri diretti. Con Macerata, Big Mat Grosseto che dai 500 sale 6-4 e si attesta a 600, precedendo Academy Netuno e Athletics Volpanaro di Bologna. Andiamo a vedere quello che sono stati i risultati della Serie B, girone C dove purtroppo il Foggia, brutto risultato per la Fiorentina, ha battuto Cupra Montana in gara 1, recupero e vittoria 8-7, vissata 11-6. La Fiorentina era scesa in terra di Marche con il Fano, aveva vinto agevolmente gara 1-7-2, conduceva 5-1 al sesto gara 2, poi racione finale di Fano che pareggiava e superava la Fiorentina, da 1-5 vincevano 8-6 con la Fiorentina 11 valide nel 7-2, la prima vittoria 11 valide della Fiorentina 12 di Fano, partita con un solo errore, quello di Fano. Nella prima gara andiamo a darvi le medie della Fiorentina, è su Fi, ha finito 3-5 con un doppio, Rassi Zad 1-3, Banchi 0-0, Biffoli purtroppo brutto 0-5, bruttino, Krasniki Mergim 0-4, Martin Periox-Orexis 1-3, Francesco Ciali 1-3, distruttivo Davide Daniele Menoni 4-4 con due doppi, Ettore della Nave 1-4, Tommaso Panichi 0-4, sul monte vince Gabriele Tagliaferri, 11-35 per la Fiorentina le boxe, vuol dire 314 di media gara, con 5 punti battuti a casa e 3 doppi. Andiamo a vedere quello che è successo in gara 2, dove 12 le valide della Fiorentina, 10 di Fano, ma pesano i tre errori in casa Fiorentina che hanno purtroppo rappresentato il trampolino di rilancio per Fano. In gara 2 le statistiche, bianco-rosso-nere, S-u-fi 0-3, Krasniki Mergim distruttivo 3-4, Andrea Biffoli a 500, 2-4, Martim Pedro Clorexis, il nostro Cubanito, bene, 3-4, Menoni da 4-4 a 0-4, torna indietro, Ciali 1-3, della Nave 0-4, Rassizad 0-0, con Banchi 0-2, Anichini 1-3, Panichi, bene, 2-5 sul Monte, la sconfitta, addebitata al duo Krasniki e Alessio Perez, Sinforici, 12-36 nel box di battuta che fa 583, 5 punti battuti a casa, un doppio, la Fiorentina finisce il suo weekend in terra di Marche con 23-71, che vuol dire 323, c'è una salita del Monte nelle box di battuta, ma purtroppo perdiamo la partita, 10 punti battuti a casa, con 4 doppi, e allora a questo punto vi aggiorno anche la statistica del box di battuta della Fiorentina, Anichini 2-9, 222, Banchi 4-8, 500, Biffoli 14-42, 333 con un fuoricampo, Ciali 7-38, 184, Ettore della Nave 5-28, 179, Esufi 6-36, 167, in leggero aumento, Francini 0-1, Tommaso Gozzini 13-34, 382, Mergin Krasnicki aumenta, 12-38, 316, Martin Pérez-Orexis 10-43, 233 in aumento, Menoni 7-21, per lui che era lanciatore, adesso si è trasmutato battitore, per un problema alla spalla, 333, Nello 4-21, 190, Panichi 2-16, 125, fuoriclassifica e non c'è più, Marte, Niccolò Rassizad, viaggia 14-31, 452, battucchia anche uno dei lanciatori della Fiorentina, Alessandro Zufal, 6 su 19, 316, i numeri della Fiorentina, 387 gli AB, 106, le battute valide, per cui 106 su 387, la media salucchia nel box, con una media di 274, nel compendio del Girone C, Ravenna, Pantera e Potenza Picena, 16-8, 1-6, finisce 1-1, Padule, sesto Fiorentino che vince due volte, con lo Junior Rimini, 11-1, 14-1, due gare, no match, la classifica nel Girone C, Padule, 11 giocate, 10 vinto una pezza, 917, Foggia ci sorpassa, con 9 giocate, 7 vinte due pezze, 778, la Fiorentina è a 667, 8 vinte quattro pezze, Frigo Meccanica Ravenna, 6 vinte cinque pezze, 545, Potenza Picena, 4 vinte cinque pezze, 5100, scusate, 444, Cupra Montana, 5 vinte sette pezze, 417, Fano, 2 vinte, 10 pezze, di cui una purtroppo strappata dalla Fiorentina Baseball, fa 167, Junior Rimini Pirati, New Rimini, una vinta, 10 pezze, 0-91, il Girone D, Lions Baseball, Anzio, Rams Viterbo, 3-7, non è stata messa a rifetto la seconda, i Boars Grosseto, giocavano nel delbito scano contro i Lancia, di la Strassigna, 19-3, Vittona Grossetana, 4-8, il successo raddoppiato dei Lancers, nella classifica, Nettuno 2, 6 vinte due pezze, 750, Lancers di la Strassigna, 5 vinte tre pezze, 625, Messina, 6 vinte quattro pezze, a 600, i Boars Grosseto, che sono neopromossi in serie B, 5-5, viaggiano a 500, Cali Roma Sprint, 3-24 pezze, prima gara sottomedia, 429, Lions Baseball, Nettuno Junior, 3-25 pezze, 375, Rams di Viterbo, 2-27 pezze, 222, Per quanto riguarda il softball, l'A1, Girone A, si giocava Bussolengo, Sestese, l'Inter, Girone, 2 vittorie della Sestese, di Simonanà, va bene, 6-15 e 6-16, nella classifica, del Girone A, i referti mandano, il Bollate, a 13 vinte una pezze, 929, il Saronno, 8 vinte quattro pezze, 643, il Gersi di Pianoro, 6 vinte quattro pezze, 600, arriva la Sestese, targata Head Rebor, 6 vinte sei pezze, viatico al 50%, a quota 500, il Collecchio, Bertazzoni, 4 vinte otto pezze, sottomedia, 333, che chiude la classifica, il ragguaglio, dei campionati giovanili, il BSC Grosseto, giocava contro, la Fiorentina Red, del Padule, 2 vittorie, per gli Under 15, e gli Under 12, e dunque, il BSC Under 15, si impone, 21-1, sulla Fiorentina Red, e poi, bissano il successo, i Biancorossi Grossetani, battendo, il Padule, di Sesto Fiorentino, per 4 a 0, di qui, andiamo a vedere, quello che è, il programma, di questo, weekend, weekend, allora, ho digitato male una cosa, www, punto, questo, allora, andiamo a vedere, quello che ci dice, l'appuntamento, in, serie A, di questo, weekend, allora, si gioca, si comincia, questa sera, come detto, Torino, Campidonico, Unipolsae, Bologna, Parma, Clima, Collecchio, San Marino, Nettuno, 1945, come detto, il match, tra, la Spirolina, Becagli, e Godo, devo fare, un piccolissimo recap, perché, la Fib, se ci piglia tutti, in contropiede, in realtà, la logistica, delle partite, direbbe, Unipolsae, Bologna, Campidonico, Torino, Collecchio, Parma, Clima, il super derby, di Parma, Nettuno, 1945, San Marino, e, come detto, l'ultimo, l'ho detto bene, BBC, Spirolina, Becagli, Grosseto, che, ospita, Godo, andiamo, a vedere, invece, quello che è, l'appuntamento, con, le partite, della, serie, B, poi, vi vado, anche, a, rammentare, un po', di, statistiche, in, serie, A, per cui, levo, levare, questo, Fibs, e, allora, andiamo, a vedere, quelli che sono, i campionati, poi, torno indietro, andiamo, posizionare, il nostro, cursore, su, eh, incentrando, i nostri, fari, ovviamente, Nettuno, San Marino, Cam, e Collecchia, Palma, Clima, spiccano, nel, proseguimento, della, pull, Scudetto, invece, io, voglio andare, a vedere, quelli, che sono, gli, incontri, del, campionato, di, Serie B, dove, ci, mettono, nel, calendario, sto aprendo, il play by play, dei risultati, del weekend, allora, eh, sabato, si giocano, Cupra, Montana, Fano, Padule, Frigo Meccanica, Ravenna, Cupra, Montana, Fano, e, Padule, Ravenna, si giocano, 15 e 30, 20 e 30, invece, ad Alghero, gara 1, eh, Catalana, contro il Milano, 1946, andiamo, invece, a vedere, quello, che è, il panorama, del, della domenica, allora, Union Alpina, Bolzano, i due match, del pomeriggio e della sera, gara 2, tra Catalana e Milano, poi, l'Ares, Milano, la squadra di Elio e le storie tese, contro Avigliana, Rebels, squadra torinese, Fossano, Piacenza, Junior Parma, Codogno, poi, le gare 2, l'Ares, contro Avigliana, Fossano, contro Piacenza, Junior Parma, Codogno, Crezzi, San Bonifacese, Dinos Verona, il derby Veneto, Pianoro, Yankees, altro derby, Emiliano Romagnolo, Carrega Park, Rangers, Reggio Emilia, con, Crezzi, San Bonifacese, gara 2, contro, i Dinos Verona, come Pianoro, con gli Yankees, come Carrega Park, contro la Palfinger, Reggio Emilia, poi, quelli che riguardano il girone di, il nostro, uno dei due, Lancers, Baseball, Nettuno 2, Rams, Viterbo, Cali Roma Sprint, Lions, Baseball, Nettuno 2, Boars, Grosseto, ovviamente, le gare 2, Lancers, Nettuno, Rams, Viterbo, Cali Roma, e Lions, Baseball, Boars, la Fiorentina Baseball, si rimette in viaggio un altro weekend, vanno a giocare i Fiorentini a Potenza, contro le Pantere Potenza Picena, domenica mattina alle 11, domenica pomeriggio alle ore 15, Junior Rimini, Foggia, e poi, le gare 2, come detto, Pantere Potenza Picena, Fiorentina, alle ore, diciamo, si gioca un'ora dopo la fine di gara 1, 11, si dovrebbe andare a giocare intorno alle 15, stessa cosa, tra Junior Rimini, e Foggia, andiamo a vedere, un po', di statistiche, per cui io devo tornare, con il mio cursore, nelle notizie, del baseball, del baseball, devo andare qua, nella serie A baseball, dove vado a darvi un po' di statistiche, nella puntata settimanale, allora, la classifica, delle battute, i primi classificati, devo andare qua, allora, come media battuta, in serie A nazionale, Martini, Parilli, Bologna, 556, Paolini, di Bologna, 509, Rodríguez, Barcelan, Jorge Luiz, del BBC, Spironia Beccali, Grosseto, 472, Meriggi, di Godo, 465, Rondon del Rosario, di Macerata, 462, allora, cominciamo a parlare, degli specialisti, dei fuoricampo, Lino Correa, San Marino, ne ha sbatacchiate, di là, dalla recensione, già 6, Martina e Seppomare, di Nettuno, 3, Motta, di Oltretorrente, 2, Astorri, di Parma, 2, Pieternella, di San Marino, 2, come punti battuti a casa, te batti nel box, e mandi a casa, i tuoi compagni di squadra, che erano a Zonzo, sui tre cuscini, Astorri, di Parma, firma, 27 punti, Leonora, di San Marino, 24, Calvo, di Settimo Torinese, 22, Martini Paridi, di Bologna, 20, Martinez, Pomare, di Nettuna, 19, andati in base, SB, Costionopoulos, di Parma, 13 volte, Hernandez, di Collecchio, 13, Martone, di Modena, 8, Pomare, Nettuno, 8, Infante, di Modena, 7, i punti, tu batti, vai prima in prima, poi in seconda, poi in terza, e completi il giro del diamante, arrivando a casa, sigli il tuo punto, Bertossi, di Bologna, ha fatto 25 volte il giro del diamante, Costionopoulos, di Parma, 24, Ustaritz, di San Marino, 24, Battista, De Jesus, San Marino, 22, Lino Correa, di San Marino, 19, le battute valide, vai nel box, giri la mazza, batti la valida, Astorri, di Parma, 28, Paolini, di Bologna, 27, Sanamè, di Parma, 27, Costionopoulos, di Parma, 26, Martini Parrilli, di Bologna, 25, gli specialisti dei doppi, anzi, cominciamo prima dei tripli, ovviamente era più, io seguo, come la FIBS ha pianificato la pagina delle statistiche, detto dei fuoricampi dovevo calare direttamente nei tripli, Megliori di Verona, 4, Calvo di Settimo Torinese, 3, Wong, Settimo Torinese, 3, Angulo Gomez di San Marino, 3, Astorri di Parma, 3, passando ai doppi, Angulo Gomez di San Marino, 8, Costionopoulos di Parma, 8, Leonora, San Marino, 8, Flisi, Riccardo di Parma, 7, Alessandro De Otto di Bologna, 7, questi sono i numeri più, come si può dire, più sostanziosi, da aggiungersi, che, coloro che hanno terminato, il turno di battuta, nel box, Lino Correa di San Marino, per 65 volte, o, battuta valida, doppi, fuoricampi, tripli, ci fermiamo lì, perché se vai in base su Boll, non vai a statistica, se vieni colpito, non vai a statistica, ovviamente, vai in prima, ricevendo, il quarto base, su Boll, ma, ripeto, i Boll, non contano, non fanno, statistica, Correa, 65, Celli di San Marino, 62, Astorri di Parma, 62, Leonora di San Marino, 62, Costionopoulos di Parma, per 60 volte, poi, gli strikeout, invece, sono andati al piatto, cioè hanno subito, più strike che Boll, Pomponi, andato al piatto, 27 volte, Adrian Perez, si rivela di Cagliari, 24, Cotti di Sala Baganza, 23, Lucio Giovannini di Torre Pedrera, Falcons, 21, Simone Campazzi di Modena, per 21 volte, vado solamente a cercarvi, le statistiche, difesa, allora, primi classificati, allora, no, questo non è battuta, difesa, prima classificata, allora, i, vediamo un po', qui siamo sempre, nel reparto di attacco, questo, questo punto, vediamo un po', io digito a questo punto, lancio, primi classificati, sempre, mi compare, lancio, prima classificato, questa volta, mi, null, è, è, un, un tasto che, purtroppo, ogni qualvolta, ci fa, assolutamente, battagliare, perché, pici, 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 eccolo, alla fine, mi scuserete, ma è il sito della federazione, allora, partite vinte dai lanciatori, sul monte, Garzia del Toro, godo 5, Galeotti, godo 5, Ruiz Torres, collecchio 5, Soto Lopez di Modena 5, Alcina Gonzales di Torino 4, chi le ha perse di più, Ioli di Torre Pedrera Falcons 5, Della Rosa dei Dragons di Castellana 5, Guarda di Verona 4, Osugna di Sala Baganza 4, Virgadaula di Brescia 4, le salvezze, il pitcher che sale al posto del pitcher partente o anche del primo, secondo, terzo di rilievo e porta a casa la vittoria per la sua squadra, si chiama Salvezza, Maduro di Collecchio ne ha firmate 3, Petralia di Modena 3, Lincei di Caglia di 2, Bortolotti di Longbridge 2, Arizzi di Grosseto 2, andiamo a vedere gli strikeout, e con questo vi chiudo i numeri, non vi tedio oltre, Rodriguez di Torino ne ha firmati 64, strikeout K uguale, mandati al piatto, Hidalgo Cagliari 63, Hernandez Suarez di Settimo Torinese 59, Gomez di Cervignano 57, Viso Quevedo di San Marino 57, per cui, queste sono le statistiche dei lanciatori del campionato di Serie A del mondo del baseball. Vi ho raccontato tutto, che dire, forza Grosseto, forza Fiorentina, forza Lancers, forza Padule, non abbiamo messo la manietta di Padule, abbiamo avuto qualche screzzo a Padule, ce lo siamo legati al dito, niente scuse fino adesso, a noi è arrivato un rimprovero, da parte di Youtube, che ci ha craccato, perché, metti musica, metti musica, metti musica, non riuscimmo a Padule a parlare nemmeno per un minuto all'inizio di ogni inning, ci hanno preso la musica in sottofondo e ci hanno dato un warning, ho avvertito Padule, nemmeno una scusa, né niente, né nulla, non venite a giocare la gara di ritorno a Firenze, perché quella sera e quel pomeriggio vi faccio neri dal commento, per cui, vedremo quello che succederà con questo, è davvero tutto per l'appuntamento di oggi del Diamante, forza a tutte le nostre squadre nazionali, l'appuntamento è a venerdì prossimo, il Diamante sarà il Diamante numero 14 dell'annata 2022, ringrazio Enrico Milano che mi ha seguito in cabina di regia, cedo la linea alla mia programmazione, buon weekend a tutti, viva il baseball e viva il softball!